Ciao a tutti, ben ritrovati su Sunshine Money. Prima di iniziare mi raccomando come sempre volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Oggi volevo tornare su un sito di cui vi ho parlato un paio di settimane fa che mi è stato presentato tra l'altro da uno di voi che ringrazio ancora. Il sito in questione è SharaToday, vado a prenderlo da Chrome, è un sito russo ma come ben sapete su Chrome possiamo tradurre tutto in italiano. Qui si vanno a guadagnare dei rubli perché voglio riprenderlo perché appena dopo averne parlato è stato un attimino fermo perché era in aggiornamento. L'hanno aggiornato, ora è di nuovo accessibile, questo dimostra anche secondo me la serietà del sito. Ha una nuova faccia, ho visto che hanno aggiunto anche delle nuove possibilità di guadagno. Come si fa ad usare quindi questo sito in questo momento? Ovviamente bisognerà registrarsi, io come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione. Qui c'è la voce registrazione, una volta che ci cliccherete su vi registrerete, una volta fatto tutto quanto potrete entrare nella vostra dashboard. Io ovviamente sono già registrato e clicco sulla voce ingresso. Inserirò quindi la mia email, la mia password e questo codice CAPTCHA. Sono sulla mia dashboard e come potete vedere il sito è stato completamente rinnovato. Tra l'altro qui a sinistra potete leggere su delle sezioni la voce arrivo appunto perché in futuro implementeranno altre cose. Quello che interessa a noi sono i metodi di guadagno. Allora, chi era interessato a questo sito e si è iscritto ricorderà che qui si andava semplicemente a guadagnare un bonus facendo un semplice click. Adesso hanno conservato il bonus in questa sezione, ci clicchiamo sopra, saremo riportati in questa pagina e come potete vedere ci sarà consegnato un bonus tra 0,2 e 0,25 rubli semplicemente facendo clic su uno di questi banner. Io ne scelgo uno a caso e ci clicco sopra. Si aprirà una pagina pubblicitaria, la maggior parte di questi siti ci guadagna da questa pubblicità. Tornando su Shara Today, inserendo questo codice mi verrà appunto accreditato un bonus. Vado a inserirlo, clicco su ottieni un bonus. Come potete vedere mi è stato accreditato questo bonus da 0,21 rubli. Eccolo qui. C'è la possibilità di reclamare questo bonus ogni ora. Come potete vedere è partito il conto alla rovescia. Hanno aggiunto anche una sezione di surf, quindi una vera e propria ptc. Ci clicco sopra. Ci viene quindi presentata questa pagina che come vedete è una vera e propria ptc. Qui ci sono i link da cliccare. Ogni link ci farà partire una pagina pubblicitaria sulla quale dovremo restare un tempo tot. Per la nostra visualizzazione ci verranno accreditati dei rubli. Io ne vado a scegliere una, ad esempio questa. Ci clicco sopra. Mi viene questa voce e vado a ricliccarci. Mi si apre la relativa pagina pubblicitaria. Mi parte un conto alla rovescia. Alla fine vado a risolvere questa sorta di capcia indicando il numero delle stelline. E come potete vedere i relativi rubli mi vengono accreditati. Posso chiudere tranquillamente la pagina e tornando su Shara Today vado ad aggiornare. E come potete vedere il mio balance è aumentato. E posso andare avanti anche con gli altri link. Facendo sempre riferimento al menu a sinistra c'è anche questa sezione dove ci vengono assegnati dei semplici compiti. Come ad esempio iscriverci a dei gruppi Telegram o guardare dei video YouTube per i quali ci vengono assegnati degli altri rubli. Tutti i rubli guadagnati vanno qui nel balance in alto. Continuando ci sono, come vi dicevo all'inizio, altre sezioni in arrivo. Quindi il sito è in continua evoluzione. Una volta guadagnati i nostri rubli per ritirarli ci basterà andare nella sezione ritirarsi. Qui è molto intuitivo. Abbiamo due opzioni di prelievo, PAIR e quest'altro portafoglio. Io scelgo PAIR e vado avanti. Una volta su questa pagina ed impostato il nostro indirizzo PAIR potremo andare tranquillamente a ritirare. Il prelievo minimo come vedete è di 15 rubli. Ci basterà inserire qui la quantità da prelevare e cliccare su questo tasto ed il gioco è fatto. Questo è quanto. Secondo me questo è un ottimo e semplicissimo sito per andare appunto a guadagnare rubli. Quindi ragazzi, io in chiusura vi ringrazio per la visualizzazione. Mi raccomando vi rinvito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Like ai video che vi piacciono. Io sono Stefano e vi auguro buoni guadagni a tutti. Ciao e al prossimo appuntamento.